La marcia del Teramo verso la Serie D è sempre più spedita, ma tra i biancorossi si continua a mantenere un profilo basso. Il difensore Carlo Palmentieri, rilanciato tra i titolari domenica, quarta presenza in campionato al posto di Fulhan, ha dichiarato Sono allenato, mi sono tenuto pronto e fisicamente stavo abbastanza bene. È stata una partita da non sottovalutare, i ritmi erano quelli che erano, era un ritmo abbastanza alto. Abbiamo ascoltato anche l'esterno offensivo Stefano De Giglio che con la sua doppietta contro il Fossa Cesia ha l'attivo 21 reti in campionato dietro Finizio del Casalbordino, capo cannoniera al momento con 23 gol e così si è espresso. Non c'è nulla di scontato, devi sempre scendere in campo con il giusto atteggiamento. È normale che oggi all'inizio stavamo un po' sulle gambe. Abbiamo avuto tanti impegni in queste settimane, però nonostante tutto abbiamo fatto la partita e abbiamo rischiato qualcosina, però l'importante sono sempre i tre punti. Il campionato ha decretato la prima matematica retrocessione in eccellenza del Fossa Cesia. Ascoltiamo le dichiarazioni del suo presidente Giuseppe Ursini. Stiamo giocando con tanti ragazzi, oggi è un altro esordio, mi fa piacere che allora questi ragazzi si mettono un po' in evidenza, si caricano un po' così l'anno prossimo ripartiamo con un piglio magari migliore. Il campionato di eccellenza da domenica è in pausa, ma per il Diavolo è la vigilia dell'impegno di Coppa Italia. Domani infatti i Biancorossi ospiteranno il paternore 15 al Bonolis, arbitro a Mammoli di Perugia, nell'andata delle semifinali della fase nazionale. La gara di ritorno si giocherà in Sicilia il 3 aprile. Il cammino del Diavolo in questa stagione riprenderà il 7 aprile prossimo con la difficile trasferta di Vasto. Pomante per domani dovrà fare a meno del centrocampista esposito squalificato, nel paterno assente per lo stesso motivo il difensore Maimone. In diffida, in ottica semifinale di Coppa, restano Cangemi, Cipolletti, Palmentieri, San Severino e Vanzan, oltre al tecnico Marco Pomante. I siciliani sono secondi nel girone B di eccellenza a 6 punti dall'Enna. Ieri mattina ad Arezzo è perfettamente riuscito l'intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore effettuato dal professore Cerulli al calciatore Ercole Scipioni.